buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è venerdì 4 agosto 2023 e il venerdì di oggi dovrebbe fare un po lo spartiacque tra il grande caldo dei giorni scorsi è una temperatura un pochino più mite che dovrebbe sopravenire appunto da partire al prossimo pomeriggio quindi al pomeriggio di oggi per poi andare nei prossimi giorni e allora noi cominciamo la nostra rassegna stampa a partire dall'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi oggi è la festa di san giovanni maria vianney un curato francese visse nel diciannovesimo secolo fu un curato di campagna il cui consiglio però fu apprezzato anche da eminenti uomini di potere da persone civili da amministratori ma anche di vescovi che ricorrevano volentieri al suo consiglio fu molto devoto alla madonna e costante e disponibile all'incontro con la gente visse praticamente la sua vita all'interno del confessionale e lì ebbe un rapporto molto molto esplicito molto molto stretto con tutti coloro che accorrevano nella sua chiesa per avere i suoi consigli questo è san giovanni maria vianney ed ora passiamo alle previsioni del tempo diciamo che il tempo sta cambiando mentre nel sud delle marche vediamo il sole nel nord vediamo qualche nuvoletta che potrebbe trasformarsi in nuvolone a partire come dicevamo dal pomeriggio di oggi inizialmente solleggiato ma del pomeriggio giungono temporali anche di forte intensità non escluse grandinate e colpi di vento i venti sulle coste espireranno da una tensione di ovest nord ovest mentre nell'interno con una tensione più debole da nord ovest le temperature le temperature sono in calo non superiamo più i 30 gradi come nei giorni scorsi ma il termometro dovrebbe fermarsi sui 29 gradi mentre la minima ha segnato 20 gradi ebbene ora diamo un'occhiata fisicamente al cielo di questa mattina passando nella spiaggia di animal lido dove troviamo giovanni giovanni dalla al lago ciao giovanni ciao buongiorno a tutti buongiorno senti vediamo che oggi il paesaggio è veramente mutato rispetto ai giorni scorsi vediamo qualche nuvoletta è un'atmosfera leggermente più scura come hai trovato il tempo stamattina e cosa prevedi per la giornata e diciamo che questa questa giornata da spartiacqua probabilmente nel pomeriggio come mette quasi tutti i modelli meteorologici ci sarà una bella bella piovuta che è anche sicuramente rinfrescherà la nottata diciamo che per la nostra attività non è la cosa ideale perché si avvicina il weekend e quindi su cui contevamo vista la stagione che era partita abbastanza blanda beh peccato che capiti proprio nel weekend nel fine settimana quando ovviamente le spiagge lavorano di più senti ma in previsione del maltempo voi fate qualcosa per non so per rafforzare gli ombrelloni per tutelare un po le vostre attrezzature beh sicuramente e se è previsto molto vento vengono oltre che chiusi mette vengono legati sventolando per esempio la settimana scorsa quanto ha fatto quella quella sventolata notturna molti diciamo colleghi hanno avuto parecchi problemi con l'attrezzatura abbiamo capito senti l'abbiamo dimenticato di dire ma l'abbiamo detto nei giorni scorsi che la spiaggia animalido è una delle spiagge dove è concesso la permanenza dei cani e a proposito di questo vediamo proprio dietro le tue spalle una persona che sta portando a passeggio il cane sulla battigia cominciano presto ad arrivare i tuoi clienti al mattino sì solitamente che ha diciamo un animale al seguito inizia molto presto quindi la nostra giornata inizia prima delle spiagge tradizionali però finisce anche prima quindi noi ci facciamo trovare già pronti dalle sette con l'apertura del bar e dello stabilimento e poi al tramonto diciamo che il nostro lavoro svolge al termine al mattino generalmente la città si anima con due tipi di persone c'è chi porta a passeggio il cane e quindi sfrutta le prime ore perché poi deve andare al lavoro e c'è chi fa il jogging ovvero un po' di esercizio fisico e si alza presto ugualmente ecco queste due tipi di persone fanno si vedono sul litorale ci sono sì sì assolutamente e assolutamente la mattina che fanno diciamo bene a queste tipologie di persone a quelle che preferiscono fare attività fisica quindi bicicletta, soup o corsa o anche camminare perché nelle giornate calde è meglio farle comunque o alla sera o alla mattina benissimo e poi c'è l'aria buona c'è questo elemento salutare del salso bromoiodico insomma fa bene un po' a tutta la salute benissimo Giovanni domani ci risentiamo per l'ultimo appuntamento ci saluteremo ma intanto ti auguro una buona giornata e speriamo che il tempo sia un pochino clemente rispetto a quanto invece prevedono le previsioni grazie e arrivederci, a risentirci apriamo ora i giornali sulla pagina del Corriere Adriatico sulla pagina di Fano questa mattina dove troviamo un fatto di cronaca eclatante una madonnina e tante bici, strani ritrovamenti a Carrara è un fatto che ha destato l'allarme dei residenti i quali chiedono alle forze dell'ordine di visionare le telecamere chi può aver abbandonato la statua di una madonna nel parco e poi ci sono anche delle biciclette che vanno e vengono ma che spesso stazionano lì si crede anche che in quel momento non siano state depositate dal legittimo proprietario se nessuno ne reclamasse il possesso potrebbe diventare la madonnina di Carrara questa piccola statua la vediamo qui nella fotografia una piccola statua sacra è stata ritrovata su una panchina del parco pubblico lungo la strada Flaminia un luogo tormentato da episodi che i residenti del quartiere riconducono ad atti di vandalismo e ora si trova in un ricovero temporaneo i danneggiamenti si stanno purtroppo ripresentando con una certa frequenza abbiamo parlato molto di episodi di vandalismo in questi giorni per quanto accaduto a Fano per quanto accaduto nel quartiere del Poderino ma per quanto accaduto anche nel sottopasso di Viale Cairoli ed ora parliamo anche delle frazioni in questo caso di Carrara a volte sono stati trovati scardinati dal palo che li sorregge i bidoni dei rifiuti e stavolta ha tirato l'attenzione il ritrovamento appunto della statuetta sacra se a qualcuno mancasse una madonnina dicono quelli del comitato di Carrara può trovarla nella capellina in via Reno è stato scritto in un messaggio che il gruppo di Whatsapp Carrara ha appunto inviato così a largo raggio insieme corredato da una fotografia la piccola statua è ora vicino a una riproduzione della Madonna di Loreto e di Padre Pio in una capellina che è anche meta di processioni il ritrovamento è stato denunciato comunque alla polizia locale insieme con uno strano giro di biciclette che fa perno proprio sul parco pubblico dove appunto si ritrovano abbandonate e anche qui ne vediamo due ma poi ce ne sono state altre e in questi ultimi tempi abbandonate nel parco l'articolo di fondopagina del Corriere Adriatico questa mattina è dedicata all'esito delle analisi che ha compiuto la golletta verde l'imbarcazione di lega ambiente che percorre le coste verificando l'inquinamento delle acque marine in questo caso in questi giorni è stata davanti alle marche si è soffermata a San Benedetto del Tronto e si è soffermata a Fano e le mattine in una conferenza stampa ha reso noti i risultati ottenuti appunto dalle analisi delle acque marine ebbene il sito più inquinato della provincia di Pesaro Urbino ma forse anche delle marche è stato trovato alla foce dell'Arzilla proprio nei pressi di Fano un torrente capriccioso dobbiamo dire quello dell'Arzilla un rigagnolo che scorre durante il periodo di bel tempo ma un torrente tumultuoso aggressivo così si trasforma quando poi arrivano le bombe d'acqua quando arrivano i temporali e tutto questo porta in mare un metri e metri cubi di fango di batteri che vengono prelevate un po' da tutto l'apparato idrico che si raccoglie poi nel torrente a partire dall'entroterra un'entroterra diviso da tre comuni quello di Monbaroccio, di Pesaro e di Fano difficile anche trovare un coordinamento probabilmente ci sono ancora degli scarichi abusivi comunque un certo miglioramento è stato trovato all'Arzilla tanto che quest'anno la spiaggia del Lido che l'Imitro fa alla foce ha ricevuto la bandiera blu ma ancora molto resta da fare perché il torrente costituisce una delle fonti di emissioni più inquinate nel nostro mare e quindi è da bonificare altri siti inquinati sono stati trovati a Lesino a Falconara al Musone tra Porto Recanati e Numana del fiume Tronto a San Benedetto dal torrente Valloscura in provincia di Fermo meno negativi invece la situazione davanti alla foce del fiume Tenna nelle Marche a Porto Sant'Elpidio e la zona quindi catalogata come inquinata è quella davanti alla costa fanese il sindaco Massimo Seri e l'assessore Cora Fattori hanno apprezzato il lavoro svolto dai tecnici di Goletta Verde ricordando che la situazione dell'Arzilla è comunque migliorata rispetto al recente passato grazie a interventi come la vasca di prima pioggia tanto da permettere quest'anno appunto l'innalzamento della bandiera blu nella spiaggia del Lido vediamo in questo articolo di Spalla come uno dei gruppi ormai storici che operano a Fano abbia festeggiato i vent'anni di attività sono gli Zeba 3 che saranno protagonisti anche della festa del mare ecco il talento dei Paese dei Bellocchi spazio ai bimbi e non solo nelle fiabe ebbene subito dopo Ferragosto dal 17 al 20 si svolgerà la nuova edizione la diciannovesima del Paese dei Bellocchi quella bella festa che viene realizzata nel piazza dei bambini del mondo a Bellocchi grazie ad un apporto molto molto vasto e decisivo dei volontari sono tantissimi volontari che concorrono alla organizzazione di questa festa e ieri il programma l'ha presentato il presidente dell'associazione Il Paese dei Bellocchi Michele Brocchini insieme al sindaco di Fano insieme all'assessore agli eventi Etienne Lucarelli e poi a tante altre persone c'era anche l'assessore alla cultura Cora Fattori sotto il segno del talento è il tema di quest'anno della festa talento nel senso di scoprire tutte le opportunità che una persona ha in sé quei valori che una persona può esprimere quindi prima di tutto conoscere entro se stessi questi valori e poi tirarli fuori e esprimerli e questa è un'occasione un invito che propone quest'anno il Paese dei Bellocchi ma il Paese dei Bellocchi è soprattutto una grande festa dedicata ai bambini i quali possono entrare nel magico mondo di Pinocchio e scoprire strutture come la balena la casa della fata turchina il campo dei miracoli il parco di Mangiafuoco ma anche giochi che non solo sono divertimento ma anche hanno un fine didattico e questo fa veramente onore alla manifestazione fine didattico come l'educazione ambientale proposta da Aset l'input a un mangiar sano qui in passato è stata dedicata addirittura un'intera manifestazione e poi l'occasione di progettare la città a misura dei bambini ovvero a fare dei progetti di parchi di situazioni urbanistiche che possono cambiare il volto della città quindi segnatevi queste date dal 17 al 20 agosto il paese dei balocchi a bellocchi passiamo a Fossombrone a Fossombrone una brutta sorpresa per le famiglie che sono in difficoltà porte chiuse al dopo di noi lo stop senza spiegazioni Pallara presidente dell'Anfas si tratta di Alfredo Pallara appare ammareggiato della mancata comunicazione non solo c'è stato un disservizio ma c'è stata anche una mancata comunicazione e quindi ancora più amara è stata la sorpresa delle famiglie che fanno riferimento a questa struttura il dopo di noi che si occupa dei disabili e soprattutto si occupa dei disabili quando i loro familiari non ci saranno più e quindi non saranno abbandonati quanto è successo appare incomprensibile perché H. Cecilia struttura messa a disposizione a Isola del Piano dal comune omonimo è stato interrotto dalla cooperativa La Sorgente senza alcuna motivazione il servizio di accoglienza di persone disabili nell'ambito del progetto conosciuto con la denominazione dopo di noi punto interrogativi è appunto un interrogativo chiede Alfredo Pagliara presidente di Anfas in merito a crearsi di questa situazione a fondo pagina invece abbiamo il dispiacere che è stato comunicato tramite il preside del liceo Nolfi a Polloni da parte dei suoi studenti i quali sono stati gli autori dei pannelli danneggiati dai vandali nel sottopasso di Viale Cairoli deturpato il lavoro degli studenti a Polloni non solo si è danneggiato un bene pubblico un arredo che fa bella la città ma si è anche infierito sul lavoro fatto dagli studenti e veramente ragazzi da una parte con un altro cervello e ragazzi dall'altra parte invece con fini propositivi dimostrano come la città abbia ancora molto da lavorare sul lato educativo sul lato sociale per cercare di far crescere nel senso opportuno nel modo opportuno le nuove generazioni a Colli al Metauro è tempo di rievocazioni si rievocherà la presenza di Winston Churchill durante il secondo conflitto mondiale che dall'alto appunto di Montemaggiore al Metauro osservava il fronte della guerra da una parte del nord i tedeschi nel sud gli alleati nel mezzo la valle del Metauro oltre la linea gotica nella valle del Foglia in occasione della manifestazione era ieri l'associazione dei Green Liners in collaborazione con l'assessorato alla cultura e alla proloco di Montemaggiore ripropone la rievocazione storica della visita di Winston Churchill nell'agosto del 1944 a San Costanzo a San Costanzo una coppia in difficoltà hanno avuto la loro casa bruciata ora cercano una nuova casa non la vogliono gratis vogliono pagare l'affitto questa coppia lavora quindi ha delle disponibilità economiche solo che non trova un appartamento e dopo la disgrazia dell'incendio anche questa difficoltà che deve essere superata ecco perché c'è questo appello per trovare un'abitazione una persona Micol è incinta di sei mesi quindi insomma ha bisogno di non avere tanti altri problemi vediamo anche la pagina di Senigallia che si prepara a sostenere il maltempo arriva il maltempo eventi annullati il Summer Jambori solo al chiuso così almeno ha disposto per il momento il sindaco Olivetti ma se poi la situazione dovesse cambiare si potrebbe avere a qualche concessione si potrebbe consentire di attuare i concerti programmati anche all'aperto ma per il momento annullati tutti gli eventi all'aperto dalle 12 di oggi Summer Jambori compreso ma con riserva così come abbiamo detto e Senigallia si appresta a dare l'addio all'albergatore e pioniere dell'accoglienza Otello Baldini fondatore del Sembe Hotel aveva 93 anni fu presidente della Vigor di Senigallia la Confcommercio lo ricorda con rimpianto era un imprenditore illuminato ha detto vediamo anche qualche notizia nelle prime pagine del Corriere Adriatico dove vediamo un articolo dedicato all'onorevole Mirco Carloni il quale evidenzia come le Marche abbiano nuove prospettive dal nuovo governo da Roma alle Marche vi spiego perché ora le cose sono cambiate ha detto Carloni parla del progetto della Lega e del centrodestra per la nostra regione dagli aerei alla guinza con acquaroli una visione strategica comune sulle infrastrutture e a proposito di infrastrutture vediamo come una si sta concretizzando io userei questa parola con circospezione perché il passato magari è stata smentita ma questa volta sembra che un punto di concretezza in più ce l'abbia si parla del raddoppio della galleria della guinza l'11 ci sarà la gara per poterla riaprire e c'è una data precisa l'11 si del commissariato si del commissario al progetto esecutivo per la galleria i lavori per 130 milioni dureranno due anni e sei mesi questa volta in fondo al tunnel ci dovrebbe essere veramente un po' di luce va a gara la galleria della guinza il primo brindisi di avvio pensate risale al 1990 se ne parla ormai da più di 40 anni al momento il tracciato sarà monodirezionale e i veicoli che vi transiteranno saranno contingentati in più per la seconda canna quella che può effettivamente dare una svolta a tutta la viabilità alla strada dei due mari si dovrà aprire un altro capitolo però intanto accontentiamoci di queste certezze il commissario straordinario Marcello Simonini ha approvato il progetto esecutivo e ha dato mandato alla pubblicazione della gara che avverrà l'11 agosto prossimo quindi tra pochissimi giorni decimate le risorse del PNR per Pesaro il rebus del Cavalcavia il parlamentare del Movimento 5 Stelle Giorgio Fede annuncia tagli con progetti definanziati ma il sindaco di Pesaro Ricci rassicura torna a candele sotto le stelle sarà una cartolina mai vista il 10 agosto a Pesaro la Kermes coinvolgerà anche Gabice e Gradara e tanti tanti volontari sono in campo il resto del Carlino invece questa mattina apre con una vicenda che fa riflettere anziani anziani picchiati e chiusi a chiave dai banditi notte di terrore per una coppia a Santoso è successo mercoledì scorso dopo le 23 l'uomo per liberarsi si è calato dalla finestra con le lenzuola annodate purtroppo è caduto e si è fratturato le caviglie magro il bottino mezz'ora di vero e proprio terrore in una villetta in periferia presa d'assalto dai banditi nella tarda serata di mercoledì scorso i proprietari una coppia di fanesi sulla settantina sono stati minacciati e malmenati dai malviventi che per coprirsi la fuga li hanno chiusi a chiave nella stanza da letto ecco perché l'uomo Brunello Bettini di 75 anni lo vediamo qui in questa fotografia ha dovuto per liberarsi e chiamare aiuto calarsi dalla finestra purtroppo ha sopportato ha dovuto incorrere in gravi conseguenze per quanto riguarda la sua salute perché appunto si è rotto parte delle gambe la sopraintendenza al comune Viale Cairoli è un bene tutelato il parere della sopraintendenza al sottopasso di Viale Cairoli che tante polemiche ha sollevato per il taglio degli alberi chiesti all'amministrazione Lumi sul progetto redato dalle ferrovie per un porto di 2 milioni e mezzo di euro e poi anche il resto del carlino porta l'articolo che riguarda le analisi compiute da Lega Ambiente con la goletta verde torrente Arzilla foce inquinata l'allarme arriva appunto da goletta verde Urbino dice addio allo stampatore Tiboni aveva 76 anni ed era malato il suo laboratorio è stato un crocevia internazionale di artisti tra gli ultimi lavori una Torah preziosissima siamo ormai in conclusione voglio segnalarvi un articolo che riguarda Marotta Anteo Bonaccorsi capogruppo di minoranza consigliare denuncia il lungomare sud da vergogna e mette sotto accusa il tratto subito dopo il sottopasso alla ferrovia di via Foscolo ebbene un tratto che deve essere qualificato deve essere bonificato e con questo invito noi terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento alle 7 di domani grazie per l'ascolto a risentirci